buongiorno tutti abbiamo detto settimana scorsa che l'estate sta finendo in effetti dal maglioncino notate come le temperature si siano sensibilmente ridotte di fatto il peggioramento che è arrivato nello scorso weekend ha portato un po di piogge e diversificate in base agli areali più verso bergamo meno verso brescia però comunque ha piovuto e oggi e da ieri sera a settimana 37 mercoledì e oggi avete notato come un nuovo peggioramento sta colpendo il nord italia con piogge anche abbastanza copiose le temperature si stanno riducendo in previsione darebbero una minima sotto i 10 gradi attorno ai 9 e massime attorno ai 20 quindi abbiamo avuto uno sbalzo termico al ribasso quasi di 10 gradi in fine conti sta arrivando l'autunno finisce l'estate ed arriva l'autunno e le previsioni sono di pioggia ancora per oggi poi dovrebbe stabilizzarsi poi magari nell'aggiornamento fitosanitario vediamo le tematiche sanitarie però insomma mi sembra che al momento vada ancora tutto bene e ci vediamo settimana prossima che dovrebbe essere quella in cui le vendemmie dei rossi entrano nel pieno della vendemmia ciao a tutti